Il problema del palo Via Toledo, ore 5 di un pomeriggio affollato. Davanti a me c'è un palo, d'albero, di semaforo o poco importa. C'è. Ed io devo passare oltre. Devo perché... Devo. Non c'è altro parametro in gioco. Ed il problema è... Passerò alla destra o alla sinistra di esso? La risposta è... È del tutto indifferente. Ed in pratica, andando a verificare, del tutto indifferente sarebbe se non fosse per dei sé. Io che devo, non avendo motivo di fare una scelta, ebbene, non sceglierei. Ed andrei a sbattere, e poiché oltre quel palo ce ne sono altri ed altri, continuerei a sbattere ed a sbattere. Il fatto è che non ci sono i se non fosse. Se non fosse per un gatto nero, se non fosse per una buccia di mela, se non fosse per una veste alzata dal vento, se non fosse per tutto quello che uno pensa e non scrive perché la fantasia va troppo di fretta. Per cui io che sono passato, già volte e sono passato, senza spaccarmi in due, non ho idea di come io abbia fatto. E a dire il vero nemmeno so dire perché io devo. Perché se devo, perché ho obbligato a farlo, non sono io che scrivo. Se devo perché voglio, nemmeno sono io che voglio. Come posso volere io che neanche davanti ad un palo so scegliere la sinistra alla destra o viceversa? Come posso io fare scelte più grosse? La verità è che forse il mondo è fatto di pali che si dividono in quelli fermi ed in quelli mossi.